Erma al meta! Erma al meta alle 7.36 minuti, ma prima di andare avanti qua con le nostre notizie e tutto, è arrivato il momento di quella rubrica settimanale di cui non potete fare a meno. Gli eventi della settimana a cui non andrei! Buongiorno Fabio e buongiorno Cristallini! A me che entusiasmo immotivato! Ho sentito che i tuoi ospiti fanno questo, io sono maleducata e non lo faccio mai! Vabbè non c'era dubbio, non avevamo dubbi sul fatto che non lo resti! Quindi buongiorno a tutti, che bella giornata che ci aspetta! Perché è venerdì? Perché è brutto il venerdì? No è una bella giornata appunto! Ah sembrava sarcastico il tuo! No non era ironico e sarcastico, era realistico! Bene bene, allora Ribi, come va? Siamo pronti per sapere dove non andare? Prontissimi, prontissimi, intanto vi dico che... Tira sulle mani che l'ha detto anche la nonna di... Ah mi stavo grattando un ginocchio! Ecco, apposto! Aspetta facciamo le lampadine! Non ti vedo, non ti vedono in radio! Va bene dai, bandano il ciancio e iniziamo! Tira su un bacio! Iniziamo? Sto così, va bene! Allora, 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 intanto questo è il weekend di San Patrizio! Sappiamo tutti che il 17 di marzo, oltre a essere il compleanno di Andrea Nenna, che nessuno di voi conoscerà, ma noi sì... Ah, tanti auguri a Andrea Nenna! È il giorno di San Patrizio! Ok! E da buoni irlandesi che siamo, berremo un sacco di dio! Va bene, sì sì sì! No, vabbè, comunque iniziamo! Primo evento! Scighiera Milano, domenica appunto a San Patrizio, ci fa un bellissimo evento! Dalle 17.30 c'è il laboratorio per produrre il pane e portarselo a casa! Eh, non è bello? Siamo tornati in lockdown? Ma no, va bene, no, no, lì te lo facevi direttamente a casa! Ah, ok, ok, boh, non lo trovo interessante! Va bene, ok! Però, cioè, andate, magari mi dite, oh, sai che cosa hai imparato a fare? L'amichetta! Dubito! Bello! Dubito! Perché da me faranno tutti gli sfilatini! Sfilatini e via! O forse la baguette! Forse! Forse, forse! Poi, 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 poi! Allora, c'è una roba interessante! Allora, luogo Sesto San Giovanni, ok? Ok! C'è il festival di street food, attenzione! È buono street food! Valtellina versus Brianza, a Sesto San Giovanni! Va bene, è la porta da Brianza, ci stava, dai! Dal 15 al 17 di marzo c'era scritto gratis, quindi prevedo un sacco di gente che va a mangiare pizzoccheri in Brianza! Sì, ma è gratis, non mangiare, credo, poi! Sarà gratis l'ingresso, ma poi dopo te paghi! Io credo che sia fatto dentro il carro ponte! Ok, credo! Mi piace queste... No, perché a Sesto San Giovanni cos'altro c'è? Ma c'è il Palasesto, c'è il Palasesto, ad esempio! Non lo so, c'è scritto Sesto San Giovanni! Ragazzi, sapete che io sono sempre abbastanza approssimativa, vi do degli spunti e voi dovete andare a cercarvi le cose! Ah, ok! Cioè, non sono brava come tutti gli altri che passano di qua! Ok, va bene! No, non ti sminui le cose! Dov'è, io ci credo! Poi, allora, adesso sta andando di moda tantissimo il Superstudio Maxi! Sì! Che è in via Moncucco! Giusto! Che è in zona Famagosta-Barona! Cioè, arrivi agile con la metropolitana Famagosta! Va bene! E c'è una roba dove io sicuramente non andrò, ma perché sono a Stemia, come tutti saprete! E c'è la Mixology Experience 2024, il Festival dei Cocktail, arriva a Milano dal 15 al 17 di marzo e costa ben 25 euro! Una giornata? Un ingresso! Ah, però! Ma dentro lì spero ti andrà a bere gratis! Non lo so, vorrei che qualcuno ci andasse, perché io voglio sapere di questi eventi! Cioè, però purtroppo è inutile che ci vada a spendere dei soldi, ma anche a entrarci con un pass gratis, grazie alla testata giornalistica! Hai imparato questa cosa nuova che possiamo andare tanto? Non andrei, perché è proprio una roba troppo distante da me! Però qualcuno, se è molto interessato, ci può andare e spendere 25 euro, volendo andarci anche più giorni, farsi così 3 giorni 75! Ma no, ci sarà lo sconto per 3 giorni, dai! Non lo so! Come si chiama? Si chiama Mixology Experience 2024! Vabbè, cercatelo su Google, che saprete sicuramente cose di più di quella che vi sta dicendo Eribe in questo momento! Sicuramente, sicuramente! Poi, abbiamo detto che è San Patrizio! Sì! Quindi c'è l'Irland Week! Una settimana di eventi e musica irlandese, in realtà è partita già dal 10 marzo, finisce il 17, dalle 10 alle 21 su tutta Milano ci sono eventi dedicati alla festa degli irlandesi! Quindi sarà tutto a base, verde e birra! Vabbè, vabbè, il verde è il colore che ti piace! Verde è il mio colore preferito, la birra purtroppo no! Vabbè, però è una cosa bella, no? Non ci andiamo! No, penso di sì, io non ci andrò così, vado a fare! A comprarmi una maglietta verde! A ballare, magari, le musiche irlandese! Ma per favore, che ho già i miei problemi! Poi, sabato alle 10, quindi domani, alla Casa delle Donne, c'è una cosa che sinceramente mi ha incuriosito il titolo. Attenta, attenta! Mi ha incuriosito il titolo, probabilmente anche molto interessante. Seminario M.Feldenkreis, due punti, movimenti delle mani e dei piedi. Scusa! Dalle 10 alle 16 sono 5 appuntamenti, costano 70 euro. In realtà, se ci pensi, costano poco gli appuntamenti, perché costano 12 euro l'uno. Ok! Se la matematica non mi... Non lo so, non ti seguo in questa cosa, ma dimmi la cosa. No, non è, è un po' di più, però fammi... Non ti seguo in questa cosa, comunque... 4 Fammi capire, ma non ho capito che questa è una ginnastica, non ho capito. No, è un seminario che ti dice, probabilmente ti parla anche della riflessologia dei piedi e delle mani. Molto probabilmente, o te lo stai inventando tu? L'ho letto un pochino veloce, ok. Però mi incuriosiva moltissimo il titolo, Movimento delle mani e dei piedi. Sì, chissà che cosa vuol dire, cosa sto facendo io in questo momento con le mie mani. Niente stai facendo, infatti, ok. Questo è quello. Però non ci andresti neanche qua? No, no, no. Troppo filosofico. No, ma come? È ginnastica per le mani e per i piedi? No, no, troppo filosofico. Sono ben altri gli eventi che mi piacciono. Vabbè, ci sono altri, ok. No, faccio l'ultimo. Faccio l'ultimo. Dici tutto. Allora, io ho due grandi nemici nella mia vita. Uno è fuori salone. Uno è fuori salone. L'altro? L'artigiano in fiera. Ok. E poi ho una cosa che mi indispettisce nella vita, che è la giocoleria. Ah, ok. Ok. Ma perché? Sabato, dalle 17 alle 18 e 30, c'è il laboratorio di giocoleria per grandi e piccoli alla Cooperativa Il Balzo, a Rozzano, con un contributo di 5 euro. Quindi andateci, perché sicuramente i bambini può interessare. Poi da grande odieranno la giocoleria, però magari si divertono, insomma. Tu non ci andrai? No. A parte che non ho bambini da portare. Ma poi comunque mi dà fastidio. Ma perché ti dà fastidio? Non mi piace. Ma cosa ti hanno fatto di male questi poveri giocolieri? Niente, ho provato una volta con le clavette, è andata male. Ti è fatto male? No, no, non sono stata capace. Ah, ma mai quanto me. Tu mi hai raccontato l'unica volta che ho fatto un microcorso di giocoleria con le palline cosa hanno fatto? Allora, quando inizi con le tre palline, no? Sì. Si inizia con due. Sì. Tu devi lanciartene una da una mano, una dall'altra e in contemporanea una in alto, così. A un certo punto la maestra è venuta da me, ed ero già grandicello. Insegnante. Non ero già grandicello perché avevo già 20 e pass'anni. Mi ha detto, magari tu inizia con una pallina. Era il tuo anche questo. Quindi ho capito che non era proprio il mio, non era proprio il mio. Ci ho messo un po' di anni a trovare il mio e non so ancora se l'ho trovato. Forse è il padel, ma non lo sappiamo ancora. No, no, è raccontare tutte le mattine in Milano qui alla radio, va bene. Forse è questo. Facciamo quello. Comunque, andresti a qualcuno di questi eventi? Io non posso esprimermi, sei tu quella che dici se vado. Va bene, io lo street food... Ma vai, cioè, Valtellina contro Brianza. Vuol dire pizzocchi. Cosa mangi in Brianza? Ecco, ma quello che non lo so, boh, bulloni. Nebbia, nebbia, bulloni. Cosa sono i bulloni? Non so cosa puoi mangiare. Cos'è il piatto di più di Brianza? Non lo so. Ne pizzocchi di sopra in Valtellina e poi la bresaula sempre in Valtellina, ma non saprei. Comunque volevo chiedere scusa ai miei fan, perché io ho dei fan, perché nelle ultime due settimane non ci sono stata. Eh, ok. Sì, ma allora, una è colpa mia, purtroppo stavo male. La seconda è stata colpa di chi ha gestito qua i tempi. Ah, hai capito, cioè, Viola sta dando le colpe a noi, a me e a te. Hai capito, vabbè, non è vero, comunque. Ti abbiamo volutamente tenuto distante perché sapevamo che avresti fatto danni quella settimana. Sì, perché era l'8 marzo. Ecco, quindi meglio non farti parlare su quel tema che è meglio. Vabbè, Eribi, grazie. Ci vediamo allora a Sesto Gian Giovanni per mangiare pizzocchi. Ma no, penso di andare a fare il pane io. Fai il pane, vai a fare il pane. Beh, porto, io porto, vado a prendere la bresaola, tu porti il pane. Ok, va bene, va bene. Ah, c'è il risotto, ecco, guarda, guarda, c'è arriva un WhatsApp. Risolto al risotto alla monzese con salsiccia. Vedi? Grazie. Vedi, Alberto ci ricorda questo. Grazie, Alberto. Ma che fai tu magari lì e ci dici com'è? 331-78-535-55. 331-78-535-55. Nostro numero WhatsApp. Scriveteci che, insomma, possiamo dirvi dove non andare. Ciao. Ciao, Vibi. Ciao, ciao.